Eccoci dunque insieme per leggere le pagine di sport, partiamo dal calcio di Serie B, stasera si gioca l'anticipo per il Perugia, in campo al Curi arriva il Modena, Grifo un'altra vittoria per volare, titola il Corriere dell'Umbria, i Biancorossi danno la caccia al terzo successo consecutivo per diventare davvero grandi e scalare la classifica. Bisoli potrebbe rilanciare Drolè al posto di Zapate e confermare il restante 11 di Avellino, la Sanerizzo di nuovo. K.O. intanto si gioca anche in Tella Brescia alle 19, ha parlato ieri il direttore sportivo Pizzimenti a un esame di maturità, sono curioso di capire se questo gruppo ha assimilato una mentalità davvero vincente. La Ternana invece gioca domani, lo vediamo ancora con il Corriere dell'Umbria, Ternana vincente non si cambia, stessa formazione, appuntamento per le fere con la trasferta di Vercelli. Ma c'è un altro appuntamento che tiene banco in Serie D, è il derby di domenica al Blasone, tra Foligno e Gubbio, il derby dell'ex e delle novità. Rosso-Blu Fondi sogna la vittoria se però segno non esulto, attenzione a Fiordiani, simpatici sfottò tra i tifosi mobilitati per riempire il Blasone. Il Falco ufficializza il terzino Gentile, oggi annuncia a Giobbe, intanto cede Marani al Gualdo, Cassa Castalda. Dunque Antonio Gentile, classe 96, terzino sinistro prelevato ieri dall'Isola Liri, oggi c'è attesa dunque per l'ufficializzazione di Giobbe. A Cassa Gubbio invece a parlare a come detto è Filippo Fondi, due volte, ex due volte, perché oltre ad avere militato nel Foligno, 35 partite e due gol da gennaio 2010, tutto il campionato stagione 2012, anche nativo della Quintana. Intanto il Città di Castello, cantiere sempre aperto, si allenano i tre nuovi, operato Donadi, dunque tante le operazioni messe a segno dal DS Calagreti. E poi tra in eccellenza la Subassio si scatena, movimento e raffica per i bianconeri, diventina l'annuncia a Nicola, il Cannara insegue Ginnaia. E poi, tornando in Saredi, aspettando Evangelisti, Cappai Angelini, la Voluntas prende Nardi. Tagli arbitri, Dincecco aggancia Moretti, Andreani di Loreto in fuga, mentre per le altre discipline la pallavolo, incroci magici al Palapellini, sfide nella sfida Modena, De Cecco, Brunigno e Ingappetta, Tanasievic, che scontri. La Sirza Feticone avrà di fronte la migliore squadra al servizio, attesa dunque per questo probante test per gli uomini di Castellani e per le altre discipline. L'automobilismo a Magione si scaldano i motori, da oggi doppio appuntamento ai nostri due competizioni endurance che si svolgeranno nell'arco di tre giorni. Il programma completo per il tennis. Silvia Farina e Francesco Elia, al quarto stage al ciclo tennis, Gubbio, la domenica a martedì, sempre per il tennis. Foligno Junior, d'oro con le donne. Andiamo al giornale dell'Umbra, il grifo ci crede, un tris per volare, anticipo contro il Modena Alcuri, per la terza vittoria di fila c'è Di Carmine. Agli ex di turno tocca la panchina, mentre per i canarini, informazione top secret, ma con Galloppa. Sei partite per decidere il futuro, Pizzimenti dice contro il Modena per dimostrare maturità, solo l'umiltà potrà farci vincere ancora. C'è un nuovo sponsor con i bianco-rossi, andiamo in serie di Balistreri contro il Foligno per vincere. Parla l'attaccante del Gubbio, che non si nasconde, grande squadra, ma possiamo batterla. I falchetti intanto pensano al derby, ma con un occhio al mercato. In arrivo il camerunense Job, c'è il punto interrogativo. Intanto la premendita degli tagliandi sta procedendo a gonfie vele, è alta l'attesa per un derby delicatissimo. Mezzanotte, applaude il Sansepolcro, squadra giovane che può migliorare. L'allenatore bianconero si mostra fiducioso contro i mare in mani per fare bene. Verso la trasferta di Gavorrano, la festa all'autodromo, al via 100 miglia d'uore e auto per il tennis. Il Flaminio e l'Olimpia, Gualdo Tadino volano in alto. La Nazione, Perugia, è la notte degli esami. Pizzimenti dice che serve una prova di maturità e miglioriamo il trend dell'anno scorso. Crespo è il momento? No, possiamo uscirne già stasera la formazione Drolè-Zapata. Questo è il dubbio di Bisoli. Biglietti scontati, andiamo in serie di biglietti scontati per il derby al Blasone. La scelta della società biancazzurra. Invece in casa Gubbia, Cuccia, il rinforzo a centrocampo. Cuccia ha visto all'opera con la Voluntas pochi giorni fa. Castello e tre nuovi acquisti pronti al debutto. La pallavolo a Tanasevic c'è. Perugia assalta Modena. Niente, squalifica per il serbo. Si va al completo e caccia al sorpasso sul parche della capolista. Chiudiamo con il messaggero. Grifo, esame di maturità. Il DS Pizzimenti dice che gara è importante per consolidare la buona posizione. È indispensabile mantenere gli stessi ritmi mentali. Attenti al Modena che è squadra di valore e arriverà arrabbiata per la classifica. Dobbiamo ripetere il secondo tempo di Avellino. Rizzo out, Bisoli conferma Zebli. Andiamo a parlare del Foligno. C'è Gentile, terzino pronto per il derby contro il Gubbio. Allora, noi ci fermiamo qui con la segna stampa. Vi ricordo gli appuntamenti di giornata. A partire dalle 10 flash su RGM, con RGM flash, alle 18.30 il notiziario. Su TRG dalle 13, TRG plus e dalle 19 i nostri telegiornali su www.trgmedia.it ovviamente aggiornamenti in tempo reale. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento con i programmi di TRG. Grazie per averci seguito.